5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, bella palla mamma mia, che palla Quarto, Fabriano è riuscita a rimanere bene in partita proprio con questo aspetto del gioco Petrucci due su di lui, prova, cerca di passarla, trova molto bene, Pastore che scarica per Poggi da sotto Super azione di Faenza, Bassi Berna prova ad entrare, poi lo scarico per Molto, Lini che entra C'è altro possesso per Fabriano, diciamo che questi primi quasi due minuti stanno facendo vedere Pastore Intanto salva palla, che azione, che azione Petrucci prova ad entrare, l'errore poi nel traffico la riprende il capitano, fuori per Pastore Ancora per Petrucci, gioca un po' convulso, Pastore fa saltare il suo uomo, prova la tripla Pastore ha i suoi compagni, adesso è il momento però di insaccarla Continuando a parlare con Gergo calcistico, che palla per Poggi 6 secondi, 5 secondi, Vico prova, scarico per Molinaro, che prova la tripla di Molinaro Sesso d'oro nelle mani di Faenza, che ha un punticino di vantaggio Molinaro prova a sfidare Fall, scarico per Petrucci, 8 secondi, 7 secondi Molinaro, Fall, si butta su di lui, prova Petrucci, 2 secondi, 1 secondo, prova Petrucci La maestra, la maestra, la maestra